E' la cantante. Qualcuno ha ordinato un mango? E' un... Metti qui, ragazzino. Questa donna la riconosce? Lei... come si chiama? Lascia perdere il caso Hilton. L'accusa l'ha già chiuso come suicidio, è chiaro? Che cosa? Si è tagliata la gola da sola. E' il miglior amico del presidente. Gli chiederò un milione. Un milione è troppo. Salwa. Chiedine centomila. Il signor Shafik è un membro del Parlamento. Signore, io so che cos'è accaduto dentro a Hilton. Qualsiasi indagine lo coinvolga diventa un caso di sicurezza nazionale. Che cosa è accaduto dentro a Hilton. Se siete dei veri amanti del cinema, rimanete con me per qualche interessante curiosità. Pare che, a causa di un grosso equivoco sul set del film The Hateful Eight di Tarantino, Kurt Russell ruppe un'antica chitarra originale del 1870 invece che l'oggetto scenografato che avrebbe dovuto rompere. Poi il cane che interpretava Toto nel Mago di Oz, fu pagato molto di più degli attori che interpretavano gli ignomi chiamati Masticini, che tra l'altro, secondo rivelazioni del secondo marito di Judy Garland, pare che Nani molestassero l'attrice, che allora aveva 16 anni durante le riprese. E per finire, Michael Caine fu così spaventato dall'interpretazione di Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro che si dimenticò le battute nella prima scena che girarono insieme. Bene, per altre notizie e curiosità vi aspetto al prossimo video, come sempre, e sulle nostre pagine nei vari social. Trovate i link nella descrizione sotto il video. A presto!